La principessa del Galles, Kate Middleton, si trova ancora ricoverata nella London Clinic dopo l'operazione chirurgica all'addome. In attesa di tornare a casa e in attesa di capire chiaramente cosa abbia avuto, una decisione a sorpresa ha allarmato gli amici. Kate ha tenuto tutti all'oscuro delle sue condizioni di salute. Amici intimi compresi. Questo fa pensare o che fosse davvero molto preoccupata o che l'operazione non sia stata programmata. Questo, ovviamente, ha fatto preoccupare le persone a lei vicine. Secondo People, in pochi sapevano, solo persone fidatissime, quelle che mai avrebbero potuto diffondere indiscrezioni. Anche perché la priorità di Kate e di William era che non arrivassero informazioni premature e sbagliate ai figli, magari attraverso la scuola. Ecco perché sia gli amici sia alcuni membri della famiglia reale sono stati colti di sorpresa dal ricovero e dall'operazione. Per adesso si sa solo che Kate è in ripresa dopo qualche complicazione e che resterà ancora qualche giorno in ospedale prima di tornare a casa, dove dovrà rimanere in convalescenza fino a Pasqua.